Siamo già risorti da morte, nel verso seguito dal magnetismo e dall'antimateria, che viaggiano al contrario nel tempo e quindi dalla morte si sono spostati fino a questo punto di presente, perché noi da questo punto di presente vediamo il ritorno alla morte nelle forme opposte del moto dell'elettricità cerebrale e del moto della materia.